Ciao bentornati sul canale, io sono Giacomo di Gm Photo Art. In questo tutorial vi mostrerò come rimuovere le imperfezioni della pelle. Durante il flusso di sviluppo di una fotografia la rimozione delle imperfezioni è la prima cosa da fare. Ok, passiamo a Photoshop e iniziamo a lavorare la fotografia. La prima cosa che dobbiamo fare è ingrandire la fotografia. Quindi andiamo a ingrandire la fotografia. E come possiamo notare abbiamo delle imperfezioni sulla pelle della modella. Quindi torniamo indietro. Per zoomare potete tenere pigiato il tasto alt e con il mouse andate a zoomare. Con la rotellina al mouse andate a zoomare. A questo punto quindi la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a prendere lo strumento pennello correttivo. Poi vado su campiona e scelgo campiona tutti i livelli. Andiamo sulla palette dei pennelli e scegliamo una dimensione che è leggermente superiore alla dimensione dell'imperfezione. Quindi nel nostro caso io voglio rimuovere questa imperfezione quindi scelgo ok altro po 59 e come durezza scelgo 75 75. Perfetto. Aggiungo un nuovo livello vuoto quindi livello 1. A questo punto vado a selezionare un'area vicino all'imperfezione tenendo premuto il tasto alt e faccio clic con il mouse clic con il tasto destro. A questo punto vado sopra l'imperfezione e faccio un clic. Come possiamo vedere abbiamo rimosso l'imperfezione. Poi lo stesso modo campiono l'area adiacente quindi qua e vado sopra l'imperfezione e clic. Campiono e clic. Campiono e clic. Riduco le dimensioni. Campiono clic. Campiono clic e continuo con questo procedimento. Si procede quindi per tutta l'area del viso andando a campionare un'area e poi cliccare con il mouse nel punto in cui si vuole rimuovere l'imperfezione. Quindi a questo punto del processo si vanno ad eliminare soltanto le imperfezioni più evidenti perché quelle più piccole saranno eliminate successivamente. Con il processo di ammorbidimento della pelle vi metto qua in alto il link che rimanda alla tecnica bassa di ammorbidimento della pelle. La tecnica di rimozione dell'imperfezione è conclusa. Ci sono delle tecniche più sofisticate e professionali e ne parleremo nei prossimi tutorial. Vi ringrazio per l'attenzione. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile fatemelo sapere. Non esitare a mettere un bel mi piace. Condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo con il prossimo tutorial. Ciao da GM Photo Art. Ciao da GM Photo Art.